In nome di Dio, Paglia! Il fiato sospeso, poi l'infrangersi della bottiglia sulla fiancata che ha dato il via allo scivolo fino al mare di nave Trieste. La nuova nave della Marina Militare, l'unità d'assalto anfibio multiruolo e multifunzione che rientra nel programma per la tutela della capacità marittima della difesa deciso dal Governo e dal Parlamento e avviato nel maggio 2015. La più grande nave militare italiana costruita nel dopoguerra, destinata a diventare la futura ammiraglia della flotta. È stata un'impresa che non era facile per vedere se potesse realizzare. Il grande varo a Castellammare di Stabia, nello stabilimento Fincantieri, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della figlia, l'Avvocato Laura, madrina della nave. Quindi tra gli altri il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio, il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, che ha definito la nave l'espressione dell'eccellenza del Paese. E i capi di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e della Marina, ammiraglio Walter Girardelli. Nave Trieste non è il punto di arrivo, ma di partenza, nello sviluppo del piano di rinnovamento delle linee operative della Marina. Nonché ai vertici di Fincantieri, le maestranze che hanno accompagnato il Varo intonando l'inno di Mamedi. Nonché ai vertici di Fincantieri, le maestranze che hanno accompagnato il Varo intonando 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 il V